Tutti si possono pesare, bisogna una licenza che puoi andare a tutti i pesi in Como che ti dà il formato. Il costo total è 100 euro per un anno e poi puoi pesare per un anno. Mi chiamo Luca Arcobello e ho nato e ho ancora vivuto in Como. Da quando ero figli ho supportato il campo del Como. Abbiamo avuto un po' difficile, ma ora è più facile, anche per il buon successo della squadra e del buon proprietario che il Como ha in questo momento. Fiscatori Alfa è un associazione di amici che è nata un po' anni fa. Ci prendono la promozione del Como Lake, cercano di fare il meglio per migliorare l'environmento. Abbiamo rinforzato, facciamo molte caratteristiche. C'era un giorno l'opera di Olgiate con Masco, che è la mia famiglia di Como Football Fund. Ci sono conosciuti Alessio Jovine e Gabrielloni. Abbiamo iniziato a fare fissare insieme. Mi sono, Alessio e Tommaso. Ci sono altri altri. Alberto Cerri è venuto con noi. Niccolò Giovanni è venuto con noi. E Daniele Baselieti sono molto buoni fissori. Quindi, una volta in un anno, andiamo all'inizio insieme, quando possiamo. Lo che ho apprezzato nella mia vita è che fissare è un'esperienza bellissima. È importante, ma non è solo quello. La cosa più importante è andare con i miei amici, rilassare e non perdere i problemi. A volte non fissare fissi, e non fissare in ogni caso, perché spendere un buon tempo con i miei amici. Molto di rilassamento come dal fissi. Depende su come ti senti, ma il target è lì.